Sindaco Del Deo, importanti novità per quanto riguarda la protezione delle coste e chiaramente i danni importanti che ci sono state con queste mareggiate. Che novità ci porta? Questa mattina abbiamo fatto un incontro in un sopralluogo con il genio civile, con il dottore Ennio Cervo, insieme a Marco Raia, insieme a Mauro Miraiolo abbiamo fatto un giro via mare guardando tutta la costa che va da San Francesco fino ai giardini Poseidon e ci siamo fermati in particolar modo per tutto il tratto di via Giovanni Mazzilla, per il tratto che va nella zona antistante di Santa Lucia fino ad arrivare alle Pietre Rosse, visto che anche il rappresentante della regione è rimasto veramente sconcertato sulla situazione perché è una situazione abbastanza grave. Noi domani abbiamo un ulteriore sopralluogo con i rappresentanti della città metropolitana per quanto riguarda la difesa costa e speriamo quanto prima di poter riaprire la strada perché per noi è un'arteria importante, diciamo che l'economia di Forio passa attraverso il lungomare Giovanni Mazzilla, quindi noi assolutamente in un modo o nell'altro dovremo riaprire la strada. Purtroppo ci saranno delle opere molto importanti che dovranno essere fatte, speriamo di poterne fare alcune nell'immediatezza per poter riaprire e stiamo lavorando già su un progetto che riguarda tutta la costa perché la costa va difesa prima con delle scogliere e poi successivamente con delle opere proprio sotto costa a difesa della strada e dell'abitato sovrastante. Speriamo che questi inizi dei lavori possano iniziare dopo quanto prima.